Iniziamo oggi ad aprire un altro capitolo che ci terrà impegnati due settimane e mezza circa, che ci avvicina di più alla realizzazione pratica dei casi d'uso. In particolare ci avvicinerà alla progettazione dell'interfaccia, o perlomeno degli elementi essenziali dell'interfaccia che sono in grado di complementare la descrizione testuale dei casi d'uso che abbiamo visto la settimana scorsa e che ancora per due settimane vi terrà compagnia in laboratorio. Quindi cominceremo a parlare di tecnologie per i sistemi informativi basati sul web, che sono l'unico argomento di tipo un pochino più tecnologico che abbiamo deciso di inserire in questo corso perché, dovuto alla preponderanza di questa tipologia di applicazioni per cui non è possibile non capirci nulla o non sapere nulla, che ci farà da, diciamo, di base su cui costruire poi le lezioni successive che sono quelle appunto basate sulla progettazione dell'interazione con l'utente. Questo percorso si chiuderà ovviamente con un paio di esercitazioni in laboratorio, ma col seminario che il gruppo di psicologi di Telecom Italia terrà nelle nostre ore il giovedì 4 dicembre. Quindi le ore del giovedì 4 dicembre saranno un approfondimento di questi aspetti di fatto dato direttamente da chi queste cose le fa per mestiere in ambito aziendale. Qui ci daranno anche ovviamente da un punto di vista diverso, un pochino più completo rispetto a quello più didattico nostro. Ma, come dicevo, è un percorso che dura questa settimana, la prossima e poi ancora il seminario del 4 dicembre. Allora, partiamo parlando di sistemi informativi web, che è una definizione forse un po' vecchiotta, nel senso che nei libri la trovate, ma prima che ci fosse lo sviluppo, l'esplosione. Se andiamo a leggere la definizione del libro, ci dice che un sistema informativo web o basato sul web è un sistema informativo nel quale la comunicazione tra le macchine e gli utenti avviene o sulla rete internet pubblica o su una rete eventualmente privata, però basata sugli stessi standard di internet. Questo vuol dire che un sistema è web quando l'utente può accedere a questo sistema dalla sua connessione internet normale oppure, e questa se vogliamo è stata l'esplosione maggiore, di maggiore impatto, oppure magari il sistema informativo non è accessibile da internet, perché è privato, è accessibile solamente dall'interno della rete aziendale iperprotetta, ma il meccanismo con cui è realizzato il sistema informativo usa le stesse tecnologie, gli stessi linguaggi, gli stessi standard, gli stessi protocolli di comunicazione che userei se dovessi costruire un sito web. Le cosiddette intranet, quindi insieme di reti chiuse. Questo, diciamo, mette a fattor comune un insieme di tecnologie, che sono appunto quelle che, diciamo così, per riassumere, chiamiamo tecnologie web, poi vedremo che ce ne sono tante purtroppo, è una macedonia fatta di molti frutti, per ragioni di efficienza. Cioè si usano le stesse tecnologie per costruire prodotti molto diversi. Cioè il portale pubblico di un'azienda, il sito di e-commerce della stessa azienda, e invece i sistemi informativi che gestiscono i processi interni della stessa azienda, sono bestie molto diverse, in termini di funzionalità, in termini di utenza, in termini di grafica, in termini di complessità. Ma si sceglie, si sceglie, non è che si è obbligati, si sceglie per convenienza, per comodità, di usare in tutti questi casi lo stesso insieme di tecnologie e di linguaggi, che sono gli stessi per fare i siti web, banalizzando. Questo perché, come avremo modo di toccare in questa carrellata che faremo tra un po' di oggi e un po' di domani, nello sviluppo delle tecnologie web si sono identificati, trovati e sviluppati, dei componenti altamente riutilizzabili e quindi permettono di costruire anche sistemi molto complessi con poca personalizzazione, poco sviluppo rispetto a doversi costruire tutto, diciamo, da zero o inventandosi degli standard propri. Quindi in qualche modo si è deciso di abbandonare la soluzione totalmente fatta in casa, cercando invece di far leva su componenti già esistenti per ragioni di efficienza. Perché è più facile trovare i programmatori che conoscono queste cose standard, queste tecnologie standard, piuttosto che le tecnologie che ti sei fatto in casa tu, perché è più facile mantenere i sistemi, perché è più facile farli evolvere quando gli utenti cambieranno i terminali con cui accederanno al sistema e così via. Ma perché un server web installato a miliardi per volta e non a decine per volta e quindi sarà un software che è più robusto, più testato, più disponibile, anche meno costoso, perché tutto sommato gode di fattori di scala molto più ampi e così via. C'è tutta una serie di fattori che sono fattori di convenienza quasi non tecnica. Sì, anche, ma soprattutto, diciamo così, generale, di gestione. Ecco, la quasi totalità di questi sistemi web sono accessibili attraverso un browser. Dico la quasi totalità perché negli ultimi anni, non tanti, alcuni anni, l'accesso attraverso applicazioni mobili sta cominciando a diventare non più un giochino, ma un contesto reale. Questo li rende sempre accedere a un sistema informativo disponibile su internet, che abbia un'interfaccia web, ma che abbia anche un'interfaccia attraverso un'applicazione nativa installata su un dispositivo mobile, ricade ancora nel caso dei sistemi informativi web. Perché, come magari riusciremo a fare qualche cenno, l'applicazione mobile con il server parla di nuovo con le stesse tecnologie con cui parlerebbe un sito web normale. Quindi, di fatto, è uno sviluppo in più, non è una categoria alternativa, quella delle interfacce mobili, rispetto a quelle delle interfacce web. È un modo diverso di declinare l'interfaccia. Poi lì, se andate a vedere, i filosofi stanno a discutere delle ore su quella differenza, qual è il modo giusto, qual è il modo più puro, ma a noi non interessa, ovviamente. Non interessa capire cosa funziona. Andiamo alla parte tecnica. Io qui, sempre preso dal libro, che dei libri classi, diciamo, questo è praticamente testo in italiano sui sistemi informativi, che tra l'altro comincia già a avere qualche anno, ci racconta le varie sfaccettature che assumono i sistemi informativi. Questa figura non è attratta dal capitolo dei sistemi informativi web, ma più in generale. Ma noi lo applichiamo lì. Alcune di queste cose le vedremo, alcune di queste cose già le conoscete. Si va dai siti più semplici ai siti molto complessi, come i detti marketplace, per esempio Amazon, in cui effettivamente è un aggregatore di fornitori, clienti, fornitori logistiche, pagamento, insomma, è un mostro di complessità e di funzionalità, passando da funzionalità intermedie. in questo momento a noi non interessa ancora declinare la tipologia merceologica, in un certo senso, del tipo di prodotto, se è un prodotto business to consumer o business to business. Quello che voglio mettere in evidenza qua è che su uno spettro di prodotti molto diversi le tecnologie che si usano sono le stesse. quindi vale la pena imparare tutto una volta una volta per tutte, in senso senso. Allora, chiediamoci e probabilmente la parte di voi che statisticamente intorno al 30% che ha già fatto il corso di Lioi nella triennale, probabilmente alcune delle cose che dirò se non molte sono già state sentite ma valgano come ripasso se volete. Mentre per gli altri cerchiamo di rispondere alla domanda sì ma un sito web per davvero cos'è? Oltre al fatto che i bambini di tre anni li sanno usare ok? E ora li chiamano nativi digitali ma poi cos'è? Com'è fatto? Com'è funzione? E le tecnologie web sono una una macedonia un melange un miscuglio di moltissime tecnologie diverse no? Per chi vuole giocare avevo trovato questo sito che era carino evolutionoftheweb.com adesso chissà se la wifi di Ateneo ci supporta che ci dà un'idea ci dà un'idea del quantità e varietà di tecnologie diverse standard prodotti eccetera che si sono succeduti negli anni a parte il mal di mare che vi ho causato adesso però vediamo che ci sono delle tecnologie che risalgono 1991 1992 prima non esisteva nulla di tutto questo ok? E le prime due tecnologie che si sono sviluppate sono ne parleremo un pochino più con calma l'HTTP e l'HTML di fatto il linguaggio di descrizione delle pagine e il protocollo di trasmissione delle pagine stesse questo diagramma ci fa vedere se selezioniamo una tecnologia come questa tecnologia si è evoluta negli anni quindi l'HTML versione 1 diventata 2 poi 3 poi 3.2 eccetera eccetera e in questa figura entrano poi via via altre tecnologie qui si parla di cookie qui si parla di java qui si parla di ssl flash altre cose da sotto ajax xml eccetera poi a un certo punto ci sarà HTML5 negli ultimi anni è stato un gran casino e quindi a ognuna di queste tecnologie entra e si aggiunge alle precedenti e oltre a questo ci sono delle linee orizzontali nere che rappresentano i principali browser Mosaic voi non l'avete conosciuto perché eravate troppo piccoli Netscape Opera Internet Explorer che è nato è stato presentato per la prima volta nel 95 la versione 1 poi passato la versione 2 poi la 3 e così via e così via per gli altri browser che adesso i più diffusi oltre a Internet Explorer abbiamo ovviamente per chi usa un Mac Safari che è del 2002 2003 Firefox che è l'evoluzione nata dalla morte di Netscape che in realtà era molto precedente Google Chrome e poco altro ecco e questo il puntino indicano il numero di versione e l'intersezione tra le tecnologie e le linee nere indicano qual è la prima versione di quel determinato browser che ha cominciato a supportare quella determinata tecnologia quindi per dire qui l'ho preso una card le transizione e le transizioni CSS 3 sono supportate dalla versione 3.1 in avanti di quello credo che sia Safari e dalla versione 4 di Google Chrome e dalla versione 4 di Firefox o qualcosa del genere quindi quindi è un intreccio abbastanza complicato vabbè a parte l'intreccio la cosa che fa paura di questa figura è che man mano che andiamo avanti con gli anni si aggiungono dei serpenti in più a quelli che già esistono e non se ne tolgono mai e non muoiono mai ed è così non è solo fatto così per rendere più bella o più impressionante la figura e poi ovviamente c'è un motivo nel senso che le cose si sono via via aggiunte perché mancavano perché se ne sentivano la necessità quindi noi cercheremo di percorrere insieme i primi anni che sono quelli più facili da capire poi più recentemente le tecnologie che si sono aggiunte sono anche più complesse più di nicchia più specifiche quindi sarebbe difficile ma tutto per capire come funziona questo settore allora questo è dal punto di vista delle tecnologie come se noi lo osservassimo dall'esterno dall'interno come è costruito un sistema web è costruito attraverso un'architettura su molti livelli noi l'avevamo già citato tutti i sistemi informativi per poter gestire la complessità devono in qualche modo organizzarsi su livelli nel caso di tecnologie web questi livelli sono ben definiti meglio definiti ben strutturati perché poi non sono abbiamo parlato genericamente di livello dei dati livello del business livello della presentazione in generale poi a seconda delle tecnologie che usi il livello dei dati è fatto in un modo fatto in un modo diverso qui parlando di tecnologie web abbiamo fatto una scelta di tecnologie da usare e quindi è possibile definire con più precisione che cosa c'è nei vari livelli abbiamo dei livelli server che sono questi tre più in basso e dei livelli lato client che sono queste punte delle piramidi collegati da internet che è il livello intermedio l'infrastruttura di internet tutto questo può funzionare perché esiste internet come rete non confondiamoci con quello che scrivono i giornali ignorantisti o generalisti internet e web sono due cose completamente diverse ok internet cerchiamo di trovare una terminologia corretta è la rete e l'infrastruttura di comunicazione internet come rete può supportare moltissimi servizi ok la posta elettronica tipicamente viaggia su internet ma non viaggia con i protocolli del web viaggia con i protocolli della posta elettronica scaricate su FTP scaricate con un protocollo che è diverso quando scaricate i film usate il protocollo ad esempio BitTorrent per scaricare che fa comunicare tra i loro calcolatori e non c'entra nulla col web ma usa la stessa infrastruttura di comunicazione quindi internet è una serie di tubi attraverso cui possono passare i dati questi tubi sono fatti bene e riescono a farsi arrivare ovunque nel mondo quando va bene nel caso delle applicazioni web delle tecnologie EGE web ci concentriamo sul fatto che sul canale di internet facciamo viaggiare delle applicazioni che sono accessibili attraverso un browser o un altro tipo di client tipicamente magari un client mobile che è in grado di accedere alle stesse informazioni alle stessi contenuti e qui abbiamo già fatto un primo passo avanti enorme se io devo offrire un servizio ai miei utenti che siano utenti aziendali che siano utenti esterni il requisito che ho dal lato utente è che l'utente abbia un browser cioè non sto chiedendo nulla in più il tempo d'accesso il gradino d'accesso affinché i miei clienti possano usare il sistema è nullo non deve scaricarsi e installare un programma per se devo scaricare il film devo scaricarmi e installarmi un programma un BitTorrent un MicroTorrent o quello che è lo devo installare configurare e far partire nel caso invece di un'applicazione web non devo installare nulla semplicemente appunto all'indirizzo giusto e questo dal punto di vista dell'organizzazione del servizio è la manna dal cielo perché non mi devo preoccupare di gestire il parco macchine dal punto di vista applicativo non mi devo preoccupare di installare gli aggiornamenti di verificare che tutti abbiano installato l'ultima versione che funzioni che non si siano conflitti con altri programmi che c'è sulla macchina dell'utente eccetera eccetera posso dare per scontato che l'utente abbia installato un browser perché tanto lo stava già usando per altri mille scopi diversi e quindi posso concentrare tutto il mio investimento e tutto il mio sviluppo sul lato server o questo come tutti i sogni è falso nel senso che è quasi così il problema è che il barra i browser sono tanti come abbiamo visto dai serpentoni di prima le varie tecnologie soprattutto quelle più nuove vengono supportate prese in carico in tempi diversi dai vari browser e anche poi quando le supportano a volte soprattutto sulle cose più nuove le supportano in modi leggermente diversi ci sono delle leggeri incompatibilità quindi non è proprio così automatico che se lui ha un browser può usare il mio sito che usa le cose più belle e più nuove qui c'è con un continuo a esserci un problema di compatibilità soprattutto mi viene da dire da parte degli utenti corporates degli utenti aziendali gli utenti aziendali sono quelli sulle cui macchine normalmente sono installate versioni più antiche dei sistemi operativi dei software dei browser per ragioni di affidabilità non installano mai sulle macchine aziendali l'ultimissima versione di tutto aspetti un attimo che sia stabile che sia stati risolti eventuali problemi e poi fai l'aggiornamento per cui quello che si trova tante volte che ci sono delle persone che dal pc dell'azienda non riescono ad andare su un determinato sito perché sul loro pc c'è ancora windows xp con internet explorer 6 metà della pubblica amministrazione messa in questo modo mentre invece da casa hanno il pc nuovo comprato dal supermercato che ha l'ultima versione di tutto vabbè quello è un problema di compatibilità lato client poi tutta la complessità del progetto e realizzazione del sistema informativo ce l'abbiamo su lato server lato server che a livello macro vediamo strutturato su tre livelli un livello che chiamiamo web un livello applicativo e un livello dei dati o dei database questi tre livelli ci sono sempre a volte ce ne sono di più ma partiamo come sempre da una panoramica un pochino storica quindi partiamo dalle versioni semplici poi vediamo come si sono via via cresciute in realtà a livello dei dati può essere effettivamente un database locale in cui i dati sono memorizzati oppure dei servizi esterni a cui accede adesso oggi c'è tutto il cloud per cui i dati potrebbero anche non essere in casa miniera ma potrebbero essere accessibili in qualche modo sempre attraverso internet ma di questo di questa generalizzazione possiamo parlare poi alla fine qui quando parliamo di server scusate parliamo di vari livelli vedete che qua ho usato la parola server web server applicativo server database la uso qua in senso logico c'è un determinato livello architetturale che offre certi servizi poi può darsi magari per sistemi informativi che abbiano un carico molto limitato un carico di lavoro molto limitato che questi tre livelli server condividano lo stesso hardware fisico cioè siano installati sullo stesso computer oppure invece su sistemi molto più diciamo così con accessi con un numero di accessi molto più elevato ciascuno di questi livelli magari a livello web o in particolare a livello dei dati richieda lui da solo più computer che si dividono il lavoro in parallelo quindi il mapping tra livelli logici a livelli fisici non è uno a uno possono essere vari tipi di soluzioni che però diciamo così sono da analizzare dal punto di vista sistemistico chi deve gestire l'operatività del data center e ci interessano abbastanza poco se non ovviamente per i costi a livello di impostazione generale quindi semplificando di molto noi abbiamo un lato server che offre dei servizi a un lato client sul quale diciamo che ci immaginiamo un browser ma potrebbe sappiamo che potrebbe esserci anche altro installato sul client che però usa lo stesso meccanismo per comunicare col server ovviamente il lato server dicevamo c'erano i tre livelli e qui li ho provati a riportare dicendo il server avrà una sua rete locale con dentro varie macchine e ciascuna di queste macchine implementa dal punto di vista logico le funzioni necessarie a ciascuno dei livelli questa figura la andiamo poi a arricchire partiamo dall'inizio il primo server il primo livello che incontriamo è il livello web c'è un server web cos'è un server web? è un livello architetturale che è composto ovviamente da un hardware su cui gira un qualche software che fa cosa? che gestisce tutte le comunicazioni col browser comunicazioni che avvengono attraverso quel protocollo che si chiama HTTP che è stato inventato abbiamo visto prima nel disegno nel 1991 quindi ha 25 anni quasi e ha cambiato quasi per nulla nel senso che noi adesso usiamo la versione 1.1 del protocollo HTTP che risale a quando? l'hanno definita quasi subito forse qua 1 e vabbè mi perdo perché con questa risoluzione non riesco a vederla tutta insieme è nato nel 1991 con la versione 1.0 noi stiamo usando la versione 1.1 di fatto è rimasto stabile per quasi 25 anni per più di 20 anni questo protocollo e rimane ancora perché come fa una tecnologia a essere sopravvissuta 20 anni senza cambiare perché innanzitutto è fatta bene ma soprattutto è semplice fa quel che deve fare lo fa bene è buono ed è estremamente versatile cosa fa il protocollo HTTP e poi vediamo che cos'è perché poi in realtà è una cosa più semplice che non il protocollo HTTP che sembra una cosa complicata da dire è un meccanismo una convenzione di scambio che permette lo scambio di informazioni tra il browser e il server è un protocollo di tipo richiesta risposta se tutte le volte che il browser ha bisogno di informazioni perché l'utente le vuole il browser manderà al server una richiesta voglio quello il server riceve la richiesta controlla se è in grado di eseguirla e se è in grado di eseguirla fornisce la risposta la risposta tipicamente è un file il file che ha mai chiesto fine tutto questo scambio di informazioni avviene attraverso una serie di comandini molto semplici usando la rete le connessioni TCP IP dove fornite la rete HTTP quindi dal punto di vista diciamo del flusso logico noi abbiamo un browser sul nostro computer che vuole ha una necessità vuole avere un'informazione vuole avere un file come identifica questo file lo identifica attraverso un indirizzo di rete un indirizzo web che è un indirizzo HTTP due punti barra barra qualche cosa quella sintassi strana che avete sempre visto che adesso li prendiamo e permette di identificare qual è il server che contiene l'informazione che voglio e all'interno di quel server dove sta l'informazione che voglio allora a un certo punto in qualche modo l'utente cliccando sui link essenzialmente dice al browser io voglio vedere il documento che sta con l'indirizzo quando noi andiamo a scaricarci il materiale del corso ad esempio io con questa pagina c'è gli ultimi aggiornamenti sistemi informativi e aziendali nel momento in cui io faccio clic su quel link sto dicendo al mio browser guarda io utente voglio vedere questo contenuto questa pagina ci clicco sopra e cosa è successo che il mio browser ha capito sulla base del link che ho cliccato che volevo la pagina a questo indirizzo che è scritto qua sopra ha contattato il server che risponde a questo nome e ha chiesto al server per favore caro server tu al tuo interno dovresti avere un documento che fa così che si chiama così se ce l'hai per favore dammelo quindi la richiesta parte sempre sotto forma di indirizzo ur lo si chiama uniform resource locator adesso vediamo qualche esempio questo indirizzo viene incapsulato dentro quella che viene chiamata richiesta http che è un piccolo file di testo di poche righe in cui dentro essenzialmente c'è scritto voglio questo indirizzo in realtà dentro la richiesta http ciò che mi interessa è solamente la parte finale dell'indirizzo non il nome del server il nome del server lo uso per decidere a chi mandare la richiesta quindi qual è il server quindi a chi ti mando la richiesta e poi dentro la richiesta c'è scritto qual è il cammino del file il nome del file che mi interessa questa parte cammino viene ricevuta dal server web che è l'oggetto di cui ci stiamo occupando e magari quello corrisponde a un file quel nome corrisponde a un file che è salvato sul disco di quel computer questo disco questo file ad esempio sarà scritto nel linguaggio html come sono scritte tutte le pagine web una volta che il server web l'ha trovato lo può mandare indietro quindi come risposta a questa richiesta manderà un'altra busta un altro messaggio che si chiama risposta http che conterrà due o tre righe di introduzione di saluti e poi integralmente la copia del file questo file viene ricevuto dal browser che nel frattempo è rimasto in attesa con la classifica che girava e verrà poi visualizzato affinché l'utente che alla fine aveva chiesto quella pagina la possa vedere ma dal punto di vista web tutto si conclude qui il protocollo http su cui si basa il web è una richiesta e una risposta una cosa strana è che dopo che il server web mi ha risposto immediatamente si dimentica completamente di me cioè il lavoro del server web è finito nel momento in cui ha dato la risposta fine la convenzione viene chiusa e il server web può non ricordarsi più nulla del fatto che mi abbia mandato questo documento questo ci creerà problemi tra un po' quindi quali sono le sigle che abbiamo usato per cercare di spiegare cosa succede beh siamo partiti da URL che è una sintassi con cui descrivere gli indirizzi delle risorse su web di qualunque tipo essi siano ovunque essi siano nel mondo il protocollo HTTP per poter fare delle richieste del file corrispondente alla risorsa che corrisponde a una determinata URL ovviamente la rete internet basata sul protocollo tcpip e poi un modo per descrivere queste pagine questi contenuti ad esempio l'HTML come linguaggio di descrizione delle pagine che non so il GIF o altri formati per invece rappresentare le immagini contenute nella pagina stessa tenete presente che nel 1991-92 quando Tim Berners-Lee ha inventato queste cose ciascuno di questi punti era un dilemma mostruoso il web è nato al CERN di Ginevra ok mentre internet è nata negli Stati Uniti dai soldi del Ministero della Difesa dal DARPA americano il web è nato a Ginevra il CERN lo sapete tutti è un centro di ricerca sulla fisica nucleare di che c'entra con internet c'entra perché tutto è nato quando inizio anni 90 ok fine anni 80 i fisici fanno degli esperimenti sugli atomi sulle particelle sul lavoro che fanno i fisici e collaborano con gli altri laboratori di fisica nucleare nel mondo come collaborano i fisici tra di loro? collaborano pubblicando i dati degli esperimenti pubblicando le loro conclusioni e gli altri li leggono li criticano li confrontano ripetono l'esperimento e vanno avanti insieme così facendo le teorie verificandole eccetera eccetera sapete qual era il flusso di pubblicazione di una pubblicazione scientifica in quegli anni? e un pezzettino l'ho ancora vissuta alla fine gli fisici cosa facevano? facevano questo esperimento raccoglievano i dati poi scrivevano un articolo già lo scrivere l'articolo era una cosa che era problematica perché ogni computer diverso aveva dei programmi di word processing diversi indipendenti e incompatibili non è che word ce l'hanno tutti word non esisteva ancora non è ancora stato inventato il pdf non esisteva ancora non era ancora stato inventato per cui tu scrivevi con qualche programma che se va bene solo tu riuscivi a leggere o quelli che lavoravano con te perché quelli già in un altro laboratorio in America in Giappone usavano sicuramente programmi diversi ma va bene impari questo programma e scrivi l'articolo lo stampi ne fai 6 o 8 fotocopie lo metti in una busta e lo mandi all'editore di una rivista dicendo vorrei pubblicare questo articolo l'editore della rivista si prende una copia se la tiene per lui e le altre 5 o 6 le manda ad altri 5 o 6 professori esperti nel tuo campo nel mondo questi ricevono nella loro posta un pezzo di carta e cominciano a leggere e scarabocchiarlo poi scrivono il loro commento danno i voti all'articolo questi commenti li mettono in una busta la spediscono all'editore poi dopo si mandavano anche via fax i commenti non gli articoli l'articolo 30 pagine non puoi mandare via fax arrivano all'editore se va bene l'editore legge questi commenti quando sono arrivati tutti tipicamente dirà l'autore si guarda l'articolo è bocciato pure accettato però i revisori anonimi hanno chiesto che tu faccia queste cose in più questo non si capisce bene questo aggiungilo scrive un rapporto lo manda via posta all'autore e guarda ricomincia da capo su un articolo nuovo eccetera eccetera quando puoi e questo puoi iterare due o tre volte quando poi alla fine tutto è iterato cioè quando alla fine l'editore dice va bene l'articolo è definitivo mandami la versione definitiva poi questa viene messa in stampa viene messa a calendario su una delle prossime uscite di una rivista quanto tempo passa dal momento in cui ho i dati al momento in cui qualcun altro ha la possibilità di leggerli più di un anno questo bruciava no perché cazzo ho i dati qua allora cosa succedeva succedeva che poi molti di questi visi viaggiavano andavano alle conferenze si incontravano di persona e gli facevano vedere i dati il mese dopo non un anno dopo poi nel frattempo li pubblichiamo però c'era questa necessità che noi capiamo benissimo oggi di avere una maggiore tempestività di diffusione dell'informazione allora però cosa serviva serviva innanzitutto un modo neutro di scrivere gli articoli un modo in cui io potevo scrivere sul mio computer e tu sul tuo computer che aveva un software diverso incompatibile lo riuscissi a leggere oggi diremmo mandamelo in pdf ma non c'era e allora ci sono inventati un gruppo di informatici guidato da Tim Berners-Lee al CERN un linguaggio testuale molto semplice che si chiama html che era un linguaggio neutro che potesse essere letto su tutti i tipi di computer anziché scrivere col tuo programma scriverlo in html e si sono inventati un modo per fare riferimento ai vari documenti html che quello di Ginevra poteva pubblicare sul proprio computer e quello del Giappone poteva andare a leggere quindi era necessario avere un sistema di indirizzamento per risolvere i documenti da cui sono nate le urle gli indirizzi questo dice due cose vi ho raccontato l'aneddoto non tanto per riempire il tempo ma per capire due ipotesi alla base che poi ci danno fastidio molto dopo la prima vabbè non ci dà troppo fastidio è che fondamentalmente il web è nato per distribuire documenti testuali testuale sì ma si supera facilmente documento è una cosa che per suonatura è statica una volta che è scritta mica cambia più o cambia molto raramente noi stiamo usando oggi il web per lavorare con applicazioni multimediali applicazione è una cosa che cambia in continuazione multimediale dove il testo è una parte minima ma usiamo ancora gli stessi linguaggi di allora per cui scricchio la costruzione no? che faremo? la seconda è l'assunzione molto più grave è che il web è nato per diffondere documenti che per natura stessa devono essere diffondibili e diffusi il più possibile chiunque lo deve poter leggere se io solo l'indirizzo di quel documento lo leggo sicurezza zero protezioni zero password zero non ci stanno proprio nel modello che avevano in mente all'epoca e quindi oggi questo lo paghiamo tanto perché ogni volta che si scoprono dei problemi di sicurezza eccetera perché ognuno si deve reinventare trovare una soluzione che non c'era nell'HTTP 1.0 a questi problemi nonostante questi problemi questo ha dato però la possibilità a tutti di cominciare a pubblicare diffondere le proprie informazioni anche in tempo reale indipendentemente dagli editori bastava installare sul proprio computer un piccolo software web server che nella versione più semplice erano non so 500 righe di programma non è una cosa complicata e registrare e avere un proprio server disponibile su internet l'altra genialata di Berners Lee è stata quella di dire gli indirizzi web sono liberi sono urlo in cui separo il server dal indirizzo della pagina e non c'è nessun posto centrale in cui questi indirizzi vengono controllati quindi io scrivo una urlo qualunque magari c'è o non c'è quel documento quella pagina se no mi dà errore noi siamo nati con questo quindi non ci sconvolge più di tanto all'epoca però molti ricercatori nel campo degli ipertesti avevano proprio il problema di creare dicono ma quando crea un ipertesto distribuito c'è un testo con pagine che si linkano tra di loro come faccio a controllare la validità di tutti i link e inventavano dei sistemi complicatissimi in cui c'era un registro centrale di tutte le pagine di tutti gli indirizzi Berners Lee ha detto chi se frega alcuni link non funzioneranno vabbè pazienza è interesse di chi gestisce le pagine far sì che quando pubblicano un link questa pagina venga mantenuta viva a quell'indirizzo il più possibile perché altrimenti i tuoi utenti non riusciranno a vedere i tuoi contenuti ma dal punto di vista tecnologico non occupiamocene come problema e quindi hanno definito questa modalità di indirizzamento delle risorse su internet tra l'altro è un meccanismo di indirizzamento molto generico perché la prima parte inizia sempre con HTTP o meglio di fatto inizia sempre con HTTP in pratica potrebbe iniziare con 5, 6 o 10 protocolli diversi poi si usa quasi sempre l'HTTP ma il meccanismo di indirizzamento permette di indirizzare risorse che sono accessibili anche con modi molto diversi poi c'è il nome di un computer che viene risolto su un indirizzo IP particolare poi c'è il nome di una pagina che ha un senso solamente per il server specifico è un indirizzo interno un cammino di file interno a quel server che poi fa riferimento a un determinato file che potrà essere restituito come funziona come è fatto poi nella pratica questo protocollo HTTP ma io ve lo faccio vedere dal vivo rifacciamo a rallenti quello che abbiamo fatto prima però prima attivo un'estensione del browser ormai tutti i browser recenti hanno una modalità sviluppatore io sto usando Firefox ma ce l'ha anche Chrome ce l'ha anche Internet Explorer che ci permettono di vedere cosa succede in particolare io attivo questa linguetta network che mi permette di vedere cosa succede a livello di rete quando io uso il browser quindi ricarico questa pagina e qua sotto è registrato il dialogo tra il mio browser e il server concentriamoci sulla prima riga la prima riga dice l'utente ha chiesto vuole una certa pagina quale pagina? questa il cui indirizzo è scritto qua col metodo vabbè get è uno dei due metodi supportati dall'http di fatto questo significa che il mio browser ha mandato al server elite.polite.it di cui conosci l'indirizzo ip perché l'ha già trovato ha mandato al server un singolo pacchetto una riga con su scritto get spazio sta roba qui spazio http barra 1.1 la versione dell'http che uso a capo bon fine questo è http una riga con su scritto get spazio la pagina che voglio poi in realtà c'è qualcosina in più nel senso che oltre a questa riga che è il vero comando c'è una serie di altre informazioni che sono qua sotto request headers di righe di comandi che appartengono alla richiesta quindi queste sono tutte righe un file di testo questo è colorato per facilità di lettura ma è un file di testo host due punti spazio virgolette chiuso virgolette a capo ok è un file di testo normalissimo di quanto sarà sta roba un kilobyte c'è scritto qua mille byte e questo è ciò che quando io ho cliccato sul link il mio browser ha mandato al server dopo la riga get indirizzo e ha detto guarda l'host a cui ho fatto la richiesta è questo questo serve nel caso in cui sullo stesso server fisico girano più siti diversi il cosiddetto virtual hosting io mi sto presentando cioè io browser che sto facendo richiesta sono questa versione qua e quindi il server lo sa il server sa esattamente che programma state usando questo programma è in grado di accettare e di capire il linguaggio HTML ma anche XML ma anche altra roba vedete che c'è un asterisco con questi Q uguali a 0908 sono le indicazioni di preferenza il linguaggio accettato è l'inglese come preferenza perché questo browser l'ho installato in versione inglese non italiana altrimenti si sarebbe italiano ecco come fanno il sito quando vi collegate a rispondervi in italiano perché il vostro browser che avete installato sul vostro computer è in italiano e dice a tutti i siti che visita il mio utente preferisce i siti in italiano piuttosto che in inglese piuttosto che in giapponese e un'altra serie di informazioni tra cui i cookie di cui parleremo più avanti eccetera ogni volta che cliccate su un link state mandando qualche centinaio di byte in questo caso siamo 1000 byte a un server di cui la cosa che conta più di tutto è ovviamente la prima riga e cosa fa il server? il server risponde status code 200 ok la prima riga era get il nome della pagina la prima riga della risposta è ok così è nuda 200 ok spazio ok a capo niente di particolarmente complicato vuol dire la richiesta che mi hai fatto è vapida sono riuscito a soddisfarla poi ti dico qualcosa in più ti dico guarda che questa pagina qua è effettivamente in html quindi tra tutti i formati che tu mi hai detto che eri in grado di leggere io ho scelto questo ti do questo in questo se di caratteri questa è la data della risposta quindi ti sto rispondendo a quest'ora qui 12.55 ora di Greenwich ovviamente quindi sono 13.55 da noi la pagina che ti ho dato scade il primo gennaio 2001 questo cosa serve serve per dire che la pagina se tu devi tornare su quell'indirizzo devi chiedermela di nuovo perché nel frattempo è cambiata se io invece mettessi un'immagine o qualcosa di più statico posso mettere che scade tra tre mesi e così il browser se deve tornare su quell'indirizzo e c'era già andato prima può essere salvata una copia cosiddetta cache della pagina e se non è ancora scaduta evitare di chiederla ad esempio quindi c'è tutto un meccanismo di accordo tra il browser e il server su che cosa mantenere in cache e che cosa invece richiedere ogni volta questa pagina è stata modificata per l'ultima volta adesso perché mi dice che è stata generata al volo ma poi lo vediamo eccetera un po' di informazioni anche qui per cortesia il server mi dice chi è lui quali sono le sue versioni così come io ho detto quali sono le versioni del mio browser e poi dopo questi convenevoli dove l'informazione importante ovviamente era ok dopo i convenevoli arriva il contenuto della pagina il contenuto della pagina che è c'è scritto qua un file in formato HTML dov'è questo file in formato HTML beh lo posso vedere qua questo di questa pagina specifica è il sorgente HTML della pagina come vedete anche per chi non lo conosce o non lo vuole neanche conoscere è un formato testuale con tanti comandi dentro il grosso delle informazioni è sotto forma di vedete che ci sono dei comandi che dal punto di vista della sintassi sono tra simboli di maggiore e minore i comandi i comandi sono a coppie vedete che c'è un div e un barra div quindi apre e chiude sono annidate perché questo div contiene quest'altro che contiene quest'altro e poi vengono chiusi in senso inverso qua queste sono le divisioni poi più avanti ci sono anche i link li a eccetera tutti questi e poi finalmente trovate anche il testo il testo che abbiamo visto sulla pagina con l'elenco degli esercizi turni insomma le varie informazioni cos'è questo html è un linguaggio testuale basato sulla tecnica che vedete del markup cioè avere del testo e marcare il testo con dei tag opportuni per indicare come questo testo deve essere visualizzato ad esempio p indica un paragrafo di testo normale h h1 h2 h3 indica un titolo quindi h3 indica un titolo di terzo livello e quindi il browser lo farà vedere in grassetto qui non c'è scritto che il titolo va scritto in grassetto c'è scritto che ultimi avvisi è un titolo poi il browser lo sa che il titolo va mostrato in grassetto ul sta per lista elenco non numerato unnumbered list elenco non numerato fatto di tante voci di elenco list item la prima voce di elenco è questa che poi al fondo sarà chiusa la seconda voce di elenco è questa eccetera eccetera quindi è un linguaggio relativamente semplice l'html fatto di testo puro con dei marcatori che servono per modificare un pochino la formatazione del testo e d'altronde di cosa c'era bisogno in un articolo scientifico di fare testo titoli tabelle per metterci i numeri dentro racchiudere qualche immagine ci sia un tag che si chiama image e fare il link fine si grassetto corsivo questo è html è nato così poi ovviamente si è complessificato quindi è relativamente semplice testuale leggibile da tutti ovviamente comprende anche degli elementi interattivi ad esempio questo elemento di input permette di creare dei campi in cui voi scrivete i valori adesso la casellina cerca che c'è da qualche parte è un elemento in cui l'utente può interagire il link sono un certo tipo eccetera e questo è il primo la prima richiesta http quindi quando io ho fatto questa richiesta per questa pagina il browser ha chiesto al server dammi questa pagina e questa pagina contiene questo documento di testo questo documento di testo però al proprio interno contiene anche delle altre informazioni ad esempio le immagini l'immagine non è dentro il documento di testo è un documento di testo sarà in un file separato per cui da qualche parte all'interno di questo file che adesso non mi metto a cercare per non perdere troppo tempo ci sarà un riferimento a quel file di immagine allora vuol dire così per molti altri dettagli i colori i font queste altre due immagini questa immaginina questi bordini eccetera c'è tutta una serie di elementi diciamo grafici di contesto che non sono presenti direttamente dentro il file html ma sono richiamati dal file html stesso e allora il browser come fa ad averli il browser si trova in mano un file html che contiene il testo più alcune istruzioni e poi il browser capisce che deve però richiamare ci servono anche altri file altri documenti che sono quelli citati all'interno del file html stesso e allora immediatamente senza perdere tempo che cosa fa il browser fa altre richieste questa 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 queste qui sono tutte sono tutti i file aggiuntivi che il browser ha richiesto di vario tipo questi sono file javascript file css poi capiremo cosa vogliono dire a un certo punto ci sono le immagini eccole qua questa è un'altra immagine questa è un'altra questa qui questa qui sono tutti i file che sono stati richiesti dal browser allo stesso server come richieste http separate vedete che ognuna è una get diversa e se andate a vedere sulla destra che ci lasse dei tempi ci fa vedere quanto tempo ci ha messo il server a rispondere qui rispetto al primo click sono già passati un secondo e mezzo un tempo enorme perché in realtà io ho fatto la ricarica prendendo lo shift e quindi gli ho detto al browser non usare la cache vai a chiedere tutto per questo è stata una richiesta particolarmente lenta e completa però per un singolo link per un singolo indirizzo il mio browser l'ho dovuto fare c'è scritto sotto 52 richieste diverse una per il file html 51 per tutti gli elementi di contorno che di fatto completassero la grafica ognuna di queste richieste ed è una cosa strana viene trattata dal server web come una richiesta completamente diversa indipendente cioè dal punto di vista del server queste 51 richieste potrebbero essere arrivate da 51 persone diverse non gli fa differenza si dice che http è un protocollo senza memoria cioè quando esegue la richiesta per il logo non va a pensare che questa richiesta magari è collegata a qualcos'altro una cosa però voglio farvi notare nella risposta o meglio nella richiesta c'è un campo a cui dovete fare attenzione tutte le volte che il browser fa la richiesta di un elemento collegato a una pagina inserisce nella richiesta un campo che si chiama referer con un R sola non è referer ma hanno deciso di farlo con un R sola e nel campo referer indica l'indirizzo della pagina in cui era il browser quando ha deciso di fare quella richiesta questo non serve al server per darvi l'immagine che ha richiesto ma serve a chi gestisce il server per capire la navigazione degli utenti cioè ogni volta che l'utente clicca su un link o richiede un'immagine il server sa su quale pagina era e quindi da quale pagina proveniva qual è il suo percorso di navigazione e se questa immagine non fosse un'immagine neutra inutile il logo su un sito che tra l'altro è ospitato sullo stesso server su cui è ospitata la pagina quindi in realtà so già che ci siete ma se fosse un'immagine pubblicitaria quello che succede con la pubblicità con chi vende pubblicità su internet gioca molto anche su questo campo perché quando io in una pagina di un sito metto la pubblicità comprata inserita da google o da altri questa immagine viene richiesta il browser la richiede non al mio sito la richiede al sito che vende la pubblicità al sito arriva una richiesta guarda che è arrivata una richiesta per una pubblicità per una pagina ma insieme a questa richiesta a cui lui risponderà dando un'immagine ovviamente c'è associata il referer che dice al pubblicitario esattamente in che pagina ero io sono io in quel momento e questo è un meccanismo attraverso cui se voi navigate andate su un sito poi andate su un sito diverso e in questo secondo casualmente vedete le pubblicità che sono collegate a ciò che avete ricercato sul sito precedente perché per il fatto di navigare dei siti state dando l'informazione a chi vende la pubblicità di quali sono i vostri interessi adesso il referer è il meccanismo più grezzo poi ce ne sono altri più complessi basati sui cookie quindi noi nel momento in cui navighiamo è vero che stiamo facendo delle richieste ma stiamo anche lasciando delle tracce tracce che possono essere usate diciamo così per fini statistici di analisi dell'utenza ma anche per fini diciamo così di conoscenza più o meno trasparente degli interessi delle abitudini delle persone tutto questo è HTTP c'era già vent'anni fa quindi è fatto di quel scambio di richiesta risposta con un po' di informazione aggiuntiva e nella risposta tipicamente è appeso incollato in fondo il file HTML ecco se ragioniamo un attimo dal punto di vista delle prestazioni noi vediamo che lungo l'asse dei tempi l'abbiamo un po' visto anche dal grafico il browser fa una richiesta e a un certo punto arriva la risposta ma cosa succede visto che noi abbiamo visto solamente il lato del browser non sappiamo cosa sia successo sul server allora possiamo immaginarcelo così io ho cliccato sul link al tempo T0 al tempo T1 il browser ci mette un attimo di tempo per capire che cosa voglio al tempo T1 ha preparato la richiesta HTTP quei 1000 byte che abbiamo visto prima li ha pronti per spedirli ci metterà un microsecondo o due a fare sta roba al tempo T1 il browser manda sulla rete la richiesta HTTP t1000 byte che fanno il giro ma in questo caso del poli perché il server era lì ma se no in generale del mondo e al tempo T2 arrivano al server al computer che in questo caso c'è il mio ufficio a cosa è data la differenza tra T1 e T2 dipende da due fattori dalla velocità del collegamento di rete tra il browser e il server velocità con gestione della rete e la dimensione della richiesta in questo caso la richiesta era relativamente piccola la richiesta HTTP il pacchetto richiesta HTTP arriva al server il server cosa fa riceve questa cosa ci mette un attimo per leggerla capirla decodificarla capire cosa vuole questo al tempo T3 ha capito la richiesta e la legge cerca se c'è il file sul disco nel caso lo legge quindi il tempo T4 di 5 è il tempo di accesso al disco al tempo T6 il server ha una copia del file lo impacchetta in una risposta HTTP che al tempo T7 manda indietro questa risposta HTTP viaggia viaggia lungo la rete fino ad arrivare al tempo T8 di nuovo al browser io ho disegnato questa linea T7 T8 più inclinata o meno inclinata insomma più orizzontale perché a parità di connessione di rete la dimensione della risposta è tendenzialmente molto maggiore della dimensione della richiesta quindi c'è un numero di byte maggiore da trasferire poi la pagina al browser arriva a T8 e supponendo che la pagina non contenga né immagini né font né script né allora può essere immediatamente visualizzata e tra T8 e T9 il browser impagina la pagina e me la mostra a questo punto l'utente a T9 vede la pagina e poi c'è il cosiddetto thing time dell'utente il quale a questo punto ha la pagina fa quello che vuole prima o poi cliccherà di nuovo da qualche parte allora tutto ricomincia da capo però magari se tutto questo ciclo si conclude in 300 millisecondi poi l'utente ce ne mette 4 o 5 a leggere i contenuti quindi in realtà le scale di tempi sono molto diverse questa è la percezione dell'utente la velocità percepita dell'utente da T0 a T9 la velocità invece offerta fornita dal server è da T2 a T7 la differenza tra i due la fa la rete ok questo è il classico dilemma del pendolare che sta a lavorare 10 ore 8 ore scusate ma sta via da casa 10 ore perché c'è il tempo di viaggio quindi il tempo speso percepito dal datore di lavoro e percepito dai familiari è molto diverso perché c'è la rete di mezzo ecco se vogliamo dare delle valutazioni quantitative su quelli che sono che possono essere i tempi di risposta di un server web ci sono due misure poi bisogna sempre fare attenzione perché quando la gente dà i numeri soprattutto in termini pubblicitari o di marketing abusa di queste misure dicendo una cosa al posto di un'altra latenza è il tempo necessario al server per rispondere e alla risposta del server per raggiungere il browser io ho detto il tempo richiesto per fornire una risposta di 0 byte cioè nel caso migliore possibile la latenza è il tempo minimo che serve per la richiesta affinché la richiesta vada dal browser al server e il server possa rispondere a tornare indietro meno di così non può rispondere anche se la richiesta è un file piccolissimo di 0 byte non rallenta il trasferimento di rete eccetera e questo però comprende una serie di tempi fissi aprire la connessione mandare la richiesta dall'altra parte decodificare la richiesta impacchettare una risposta che sarà la più breve possibile ma comunque richiede un certo tempo e mandare la risposta e chiudere la connessione questo limita di sicuro il numero di chiamate HTTP che un server può sopportare ogni secondo la dico al contrario se la latenza è di un certo numero di millisecondi per ogni richiesta HTTP un server ha una latenza minima di 3 5 millisecondi facciamo i conti facili 5 millisecondi è poco no? vuol dire che però il tempo minimo per elaborare una richiesta è di 5 millisecondi giriamo dal contrario vuol dire che in un secondo non potrà mai elaborare più di 200 richieste è perché 1000 diviso 5 fa 200 l'inverso di 5 millisecondi per richiesta HTTP l'inverso è 200 richieste HTTP al secondo 200 richieste al secondo tante o poche ma una pagina me ne ha già mangiate 50 quindi vuol dire che se questo sito avesse un tempo di risposta una latenza di 5 millisecondi e delle pagine che ciascuna delle quali richiede 50 richieste HTTP diverse per la stessa pagina e io riesco a servire 4 pagine diverse al secondo 4 pagine perché ciascuna pagina mangia 50 richieste e di richieste in un secondo ne posso servire solamente 200 conticini semplici però ci danno subito già facilmente un'idea della scala quanti utenti contemporanei può gestire questo sito non 4 4 contemporanei ogni secondo ma a meno che gli utenti non siano così ansiosi che ogni secondo cliccano su un link magari mi danno un po' di e allora se quello che avevamo chiamato il think time dell'utente fosse di 10 secondi cioè vedi una pagina e poi per 9 secondi pensi o per 10 secondi pensi se io riesco a supportare 4 utenti contemporanei ogni secondo in totale potrò avere 40 utenti sul sito ma proprio questa è una misura minima perché c'è di ottimistica perché abbiamo fatto il conto che le pagine risposte sono tutte piccolissime i file scambiati sono tutti di 0 byte però l'overhead minimo ok come si fa ad aumentare queste prestazioni voglio più utenti o ci metto più computer o faccio in modo che le pagine siano più semplici non richiedano 50 richieste ciascuna ma solamente 10 o magari faccio in modo che le varie pagine di un sito contengano tutte sempre le stesse immagini i stessi elementi grafici in modo che il browser tenendosi in cache ti deve scaricare la prima volta ma poi le volte successive no perché questo è l'altro trucco per ridurre il numero di richieste c'è una serie di tecniche qui è un prodotto di fattori ciascuno dei quali posso abbatterlo con una tecnica diversa oppure se non ce la faccio quando ho raggiunto i limiti devo mettere più server che si dividano nella volta di loro dopodiché al netto deve essere capace di rispondere devo poi anche trasferire dei dati allora trasferimento dei dati è misurato da un altro parametro che viene chiamato throughput che è la portata essenzialmente no? quanti byte al secondo megabyte al secondo riesco a fare uscire da quel sito alla massima velocità ipotizzando che di essere da solo che ci sia una richiesta sola io qui sempre per semplicità per avere un modello lineare ho detto il throughput lo definiamo come la velocità massima a cui una pagina di dimensione infinita non più di dimensione 0 byte una dimensione infinita dico infinita perché a questo punto poi il tempo d'accesso da latenza diventa trascurabile un file di 20 gigabyte 200 gigabyte devo semplicemente trasferirlo ho fatto lo scambio di messaggi iniziali ma poi sto pompando dati alla massima velocità possibile quindi qual è il massimo throughput la massima portata in uscita del sito delle sue pagine e questo dipende ovviamente dalla capacità di rete soprattutto allora qual è il tempo di risposta che mi posso attendere da un sito se vogliamo un modello lineare è dato da questa equazione tempo di latenza più la dimensione della pagina diviso il throughput la dimensione della pagina 100 kilobyte diviso il throughput 2 megabyte al secondo fa 0,1 secondi approssimando più 10 millisecondi di latenza è una formuletta molto semplice che ci permette un po' di ragionare sugli ordini di grandezza sulle misure ciascuno di questi fattori è indipendente nel senso che il throughput dipende essenzialmente da quanto investo in connettività di rete se metto su un sito su una DSL di casa mia che ha una banda in uscita di 30 kilobyte al secondo da dividere tra i 40 utenti di prima ciascuno si beccherà un throughput di meno di un kilobyte al secondo non riuscirà mai a navigare questo dal punto di vista del puro trasferimento di dati allora proviamo a mettere insieme gli elementi che abbiamo visto in questa figura che poi via via adesso cercheremo di accrescere allora abbiamo il browser o un browser qui ho messo le icone dei browser più più noti alcuni non sono neanche tanto noti per ricordarci attenzione che questa è un'architettura generale che usa un componente software ben definito che si chiama browser che ha uno scopo ben definito quello di permettere all'utente di fare delle richieste di urlo e visualizzare il risultato corrispondente esistono tanti software diversi che fanno questo lavoro funzionalmente potrebbero essere intercambiabili poi alcuni funzionano meglio altri meno sono più veloci sono più belli sono meno bacchiano più bacchi eccetera di là c'è l'utente che interagisce col browser con due modalità mouse e tastiera diciamo per immettere dati o per richiedere urlo e lo schermo per vedere il risultato ma il browser e il server si parlano esclusivamente attraverso il protocollo HTTP su internet nella richiesta get nella richiesta HTTP c'è get spazio nome della url quindi di fatto l'informazione che viaggia in questo senso è la url e l'informazione che viaggia in senso verso è il contenuto del file richiesto questo server web anche questo è un componente standard che io stia facendo un sito di ricette per mia nonna o che stia facendo il concorrente di Amazon è indipendente rispetto al server web il server web ha un lavoro da fare rispondere alle richieste HTTP che cosa fa il sito lo decide il contenuto dell'HTML delle pagine che fornisco il server web non sa non gli interessa sapere che cosa fa il sito questo è un elemento molto complesso questo server web deve essere molto veloce efficace sicuro eccetera ma il grosso vantaggio è che è lo stesso per tutti i siti la natura di un sito non cambia il lavoro che deve fare il server web il server web deve fare un lavoro solo rispondere alla richiesta HTTP punto farlo più in fretta possibile meglio possibile poi sarà chi ha creato i contenuti le pagine HTML magari create dinamicamente ne parliamo una volta prossima a fare in modo che queste pagine contengano i prodotti che voglio mettere in vendita piuttosto che le ricette di cucina ma dal punto di vista del server web questo è un file sono un insieme di byte che deve trasferire non gli interessa che cosa fa il sistema questo ha permesso lo sviluppo di prodotti estremamente standardizzati che fanno quel lavoro lì e sono applicabili a qualunque applicazione web avviata in mente questi sono i server web più utilizzati negli ultimi 15 anni al mondo il primo quello azzurro Apache è un prodotto open source è nato in realtà se andiamo più indietro nel tempo ce ne sarebbe stato un altro che si chiamava NCSA che è stato il primo nato il prodotto nato da un centro di ricerca e poi è stato diciamo così trasformato in un prodotto open source che si chiama Apache Apache HTTP server sarebbe il nome completo e come vedete è quello che è lo share più alto di tutti cioè la maggior parte dei siti web usano quel tipo di server la maggior parte vuol dire più del 50% poi c'è stato una fortuna alterna che poi sta declinando per il server web di Microsoft l'internet information server e poi ci sono altri prodotti un pochino più di nicchia other c'è una certa crescita recente di due server che sono questo Nginx che è una versione in qualche modo derivata da Apache ma molto semplificata Apache è diventata una cosa molto completa ma molto anche complessa e per alcuni tipi di siti volevano soprattutto quelli che hanno bisogno di una latenza molto breve e di molti utenti contemporanei Apache era troppo pesante e allora hanno sviluppato quest'altro energista per new generation in un certo senso un nuovo server web di nuova generazione che sta prendendo piede anche se non ha tutte le funzionalità di Apache questa crescita di Google sono i siti ospitati da Google se voi create un Google Sites vi create il vostro sito è ospitato da quel server che ha i suoi software ma nella maggior parte dei casi appunto i siti web girano su web server che sono prodotti open source quindi anche all'interno di un'azienda per un prodotto interno per un sistema informativo interno è molto probabile che al cuore di tutto ci sia come interfaccia tra il sistema informativo vero e proprio e il browser dell'utente un livello web che è gestito da uno di questi server che abbiamo messo qua dentro l'ultimo commento all'interno di queste figurine che poi andiamo a costruire ho indicato in questi tondi gli standard barri linguaggi di programmazione che un programmatore nell'area web deve conoscere allora per fare siti come si facevano nel 1992 basta conoscere l'http l'html e un formato di immagine domani invece vediamo cosa dobbiamo aggiungere per fare siti del 2014 non quelli del 1994 34 grazie Grazie.